Gemma Galgani e Sirius alias Nicola Vivarelli starebbero per sbarcare a Temptation Island che come sappiamo è un programma prodotto dalla fascino di Maria De Filippi. Il coronamento di un sogno o la distruzione di un castello di sabbia? Intanto l'indiscrezione sta facendo il giro del web. Il bel Sirius ha avuto occhi solo per Gemma nonostante corteggiatrici giovani che sono scese per lui e anche Valentino Tiero che è un po' più giovane di Gemma. Ma succederà anche così quando il 26enne si troverà tra le bellissime ragazze tentatrici di Temptation Island? Ebbene l'indiscrezione è di poche ore fa e riporta la notizia che Gemma e Sirius sarebbero pronti per partecipare al reality che mette a dura prova le coppie. Inoltre, secondo alcuni rumori, i due avrebbero lasciato uomini e donne proprio per continuare una conoscenza fuori. Non ci resta che attendere, sicuramente se ne vedranno delle belle. Grazie. 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 Grazie.